Zero pietà per chi si arrischia come Antonio, come posseduto dal demonio, mi ingegno, disegno, progetti, se agli architetti dirici, battimento a falla e i risultati sono tangibili. Yo, datemi un microfono che subito vi illumino, non mi raggiungi neanche con il supplemento rapido, perché in materia flow supero gli esami, racconto mille storie in poche pagine come il bignami. Giro con il papa, aka Cagliazzo, attento, io vendo le rime non le smazzo, nel senso che non copio il mio stile lo tutelo, a voi le cover, come i piccoli fans da Sandra Milo. Ripigliati, non addormentarti sugli allori, buttane appiccicose stimatori, restano fuori, c'è Bassi da Milano, c'è Zetta da Verona con i Liricals, aka l'MC di zona. Riconosci l'MC se sono i Liricals, Ronnie Logamani, Records, Calde Lux rappresentano, riconosci l'MC per sempre Liricals. Ronnie Logamani, Ray, Cosca Deluxe rappresentano, Cosca Deluxe, Liricals, Bassi maestro, DJ Zetta, con Cagliazzo, Davo, Ciri, Aria Cronica, Don Antonio, Rosario, Luca Pari, il signor Musk, il duo, Sabrina, Maria, e Bixman con la Rikshel, con Cosca Deluxe, Liricals. Un saluto a Taria Cronica.